Crollato un pezzo del teatro Astra, ora inizia il braccio di ferro fra la proprietà e la sovrintendenza che conferma se si vuole procedere con la ristrutturazione bisogna farla a tutto il tetto del teatro. Sentiamo cosa ci dice il sindaco. La proprietà ha manifestato la propria intenzione di sistemare la parte di teatro colpita dal crollo. La sovrintendenza però ha precisato che l'obbligo di conservazione in capo alla proprietà deve essere totale, quindi non solamente rispetto a quella parte di tetto crollata ma al tetto intero. A conclusione della riunione tenutasi in comune insieme alla proprietà rappresentata da un legale e la sovrintendenza, il sindaco ci ha confermato che la proprietà rimane ferma sulla sua decisione di non donare il teatro al comune e pertanto la saga Astra continua, nonostante i bassanesi si siano espressi sulla volontà di avere il teatro nella disponibilità della città. Il comune ha sempre chiesto ai singoli soci di fare un gesto nei confronti della città e questo gesto non è mai avvenuto e anche oggi la proprietà ha manifestato nuovamente la propria contrarietà in possibilità che avvenga una donazione dell'immobile alla città. Il crollo del teatro Astra e la forte reazione da parte della cittadinanza ci confermano che per i bassanesi quello è il teatro della nostra città. Si è parlato invece di iter, di necessarie verifiche, naturalmente il sopraluogo sarà determinante in questo senso e sarà anche determinante poi naturalmente l'intervento dei tecnici abilitati proprio a fare anche naturalmente le valutazioni dal punto di vista economico.